Io non ho avuto a fare il furbo mettendo commedie, la più bella commedia, l'immancabile Totò, perché l'attore è brillante, no, io ho ragionato da spettatore, io tutte quelle emozioni che ho ricevuto durante la visione nei cineclub, perché io mi sono formato nei cineclub, beh, insomma, molti di questi film ancora dentro di me mi hanno segnato in qualche modo, mi hanno lasciato un qualche cosa, poi altri sono più recenti, come per esempio A buon compleanno a Mr. Grape o Oltre il giardino, però mi hai chiesto di Sanse Bulevard? Beh, Sanse Bulevard è un capolavoro assoluto, innanzitutto il regista è uno dei più grandi registi del mondo, che si chiama Billy Wilder. Di Billy Wilder mi è sempre piaciuto il fatto che fosse un regista intelligentissimo, era bravo nella scrittura e si adattava perfettamente sia al noir, al drammatico, sia alla commedia brillante. Lui inizia con dei film, sai, un estriaco, risente un po' dell'espressionismo forse, però i suoi primi film sono dei film noir, dei film drammatici. Poi piano piano incredibilmente riesce a sfornare Irma la Dolce, insomma è stato un regista meraviglioso per quel che riguarda anche le commedie, quindi completo. Viola del tramonto è un film strepitoso perché lei, Gloria Swanson, è veramente magnifica, magnifica, magnifica. È un volto quasi espressionista. Il film è di una tristezza terribile perché parla di quanto è fugace la vita di un grande artista, anche famoso. Vedi là, quella era un'attrice del muto. Come arriva il sonoro, l'attrice non conta più niente e lei entra in una depressione tremenda e vorrebbe rientrare nel cinema nuovo e poi prende un sceneggiatore fallito che è William Holden e cerca. E c'è questa cupezza con questo maggiordomo interpretato da un immenso Eric Fostroheim che veramente è proprio la ciliegina sulla torta. mi piace questo aspetto gotico che ha il film e mi ha colpito molto, mi ha colpito tanto, soprattutto per come è stato scritto, come è stato interpretato. Quei film che non passano mai, anche perché raccontano un po' la filosofia della vita. Infatti quando uscì quel film, il time scrisse il lato peggiore di Hollywood raccontato nel migliore dei modi. Però tutti gli attori si rivoltarono contro Billy Wilder perché non gli andava che la verità fosse spiattellata così. Soprattutto gli attori del Muto gli mandarono anatemi, lo odiavano, lo detestavano, però lui ha avuto un gran coraggio. È stato un film molto coraggioso quello e resterà sempre come una grande emozione. Beh, non è meno coraggioso di Hordet. Hordet è super coraggioso come scelta mia, però anche Dreyer ha fatto un film coraggioso. Povero Dreyer. Devo dire che Dreyer è sicuramente uno dei registi più grandi in assoluto della storia del cinema. Perché da Giovanna d'Arco a Gertrude a Hordet a quelli che raggiunse del traghetto che ha diversi titoli, quella specie di corto che lui ha fatto. Forse la prima cosa che ha fatto. Ma lui ha un rigore stilistico che è unico. È perfetto. È perfetto nei colori. È perfetto nell'ambientazione. È perfetto nella scelta degli attori. Attori che poi non recitano attraverso delle espressioni facciali. Guai. Si limitano a chinare la testa, ora in un modo, ora in un altro. La recitazione è ieratica. E quell'attore che fa Johannes, cioè il figlio pazzo che crede di essere Cristo, è veramente un attore eccezionale, diretto in un modo eccezionale. La grandezza di Dreyer è quella di scrutare per lustrare un po' la moralità, il senso morale della vita, il senso morale dell'uomo. E soprattutto anche ai temi religiosi. perché lui era un uomo molto religioso e anche un professore di filosofia. Quindi si pone sempre continuamente molti quesiti, molti dubbi. Per esempio, Ordet è un film dove il tema centrale anche un po' è, non è soltanto il miracolo che avviene grazie all'intercezione della bambina che rappresenta la purezza. Quindi lo chiede un'anima pura. il fratello che crede essere Gesù Cristo non lo compie lui, ma lo compie perché la bambina lo vuole, nella sua, nel suo candore, nella sua. Per esempio anche la questione dogmatica è molto presente nel film. Il dogma, seguire il dogma o non seguire il dogma. Perché è un film sulla parola di Dio e su come va ascoltata e chi la può ascoltare. Infatti il film sono soltanto parole, personaggi che si muovono in questo appartamento completamente spoglio. Non c'è un quadro, non c'è un oggetto d'arredamento, non c'è niente. C'è una colonna sonora che è soltanto dal vento che soffia radente su queste collinette della Danimarca, del luogo dove loro hanno un allevamento di bestiame, nemmeno vedi il bestiame, senti che è il campanello delle mucche. Però è un film che ti fa riflettere, è un film che ti pone tanti quesiti, è un film di un grande intellettuale. Non è un film per tutti, è un film per chi ama riflette, per chi ama pensare, per chi ama porsi dei quesiti, soprattutto di carattere morale e religioso. Germi per me è stato il più grande regista di commedie e mi piace anche un po' la sua evoluzione. Lui parte come attore scartato, fra l'altro pure al centro sperimentale, scartato, quindi scrive una letteraccia anche al centro sperimentale. Come attore, poi attore e regista di film drammatici, Il ferroviere, L'uomo di paglia, e poi piano piano si accosta alla commedia, ma riesce a fare una cosa superlativa perché Divorzio all'italiana, scritto con Agno De Concini e Alfredo Giannetti, pone le basi a quella che sarà poi identificata con la commedia all'italiana. Quindi Divorzio all'italiana diventa, da lì in poi si parlerà di commedia all'italiana, grazie a quel film. Perfetto. Un film perfetto, nella scrittura, nel rappresentare quella Sicilia così medievale, con il delitto d'onore. Il delitto d'onore è un tema veramente enorme perché il film fu girato nel 61. Insomma, nel 71 fece dei conti che in un anno c'erano mille delitti di onore. Il delitto d'onore era riconosciuto come un delitto che ci poteva stare e quello che aveva ammazzato o il marito o la moglie poteva prendere o tre anni o sette anni perché il delitto d'onore viene riconosciuto come un'autentica offesa. Ecco, questa è una cosa francamente medievale, meno male che poi dopo la legge sul divorzio, mi pare, nell'81 è stato cancellato. Per me Marcello Mastroianni è stato il più grande attore italiano. Assolutamente. Se mi chiedo chi è il più grande attore italiano? Marcello Mastroianni. Bravo nel drammatico, bravo al teatro, bravo al cinema, bravo in divorzio italiana, meraviglioso nella dolce vita, ma sapeva fare tutto. E poi era un volto internazionale, era un attore che entrava negli altri paesi. L'hanno chiamato in tanti a girare fuori, è stato l'unico, uno di pochi, è l'unico quasi. Quindi di forza italiana ci doveva stare, tra l'altro anche una fotografia meravigliosa, uno dei più bei bianchi e nero della storia del cinema, tratto dal romanzo di Giovanni Arpino, Diritto d'onore, però hanno fatto una sceneggiatura meravigliosa. e poi ha vinto l'Oscar come miglior soggetto e miglior sceneggiatura, insomma, non ho capito. Allora, se c'è un attore lontano da quello che faccio io è proprio Peter Seller, però forse l'emigrante di Bianco Rosso e Frutone potrebbe essere in qualche modo un... non lo so. Però Peter Seller è un attore che mi ha sempre affascinato perché ho sempre capito che c'era una grande anima tormentata dentro di lui, un tormento tremendo. Poi quando ho visto un documentario sulla sua vita ho capito che era un uomo fragilissimo, i suoi matrimoni non duravano niente perché i mogli schiappavano via e dicevano... viveva nell'insicurezza, viveva nell'insicurezza, nella precarietà e non era mai convinto che quella cosa facesse ridere, fosse intelligente, aveva sempre paura che qualcosa non fosse di alto livello, si deprimeva con facilità, era ossessionato. Probabilmente sarà stata anche un po' bipolare secondo me perché un attore che passa da l'euforia di Dottor Stranamore e poi va a quel candore di Hollywood Party oppure va inoltre al giardino, nell'interpretazione del giardiniere, in maniera così anche un po' malinconica, estraniata, un po' però candido. Beh è un uomo incredibile che non l'ho mai visto normale io nelle sue recitazioni e sempre oltre le righe, o va sopra oppure va sotto. Mi ha sempre affascinato quest'uomo anche quando faceva l'Ispettore Clouseau, era bravo ma c'era un'anima che non riusciva ad afferrare, però mi piaceva tanto come attore. Un mio amico che viveva a Londra, faceva l'architetto, continua a fare l'architetto però non più a Londra, mi disse, sai che l'altro giorno ho visto a Londra un film meraviglioso. Io che film è? Lo devi vedere. What's eating Gilbert Grape, che è intraducibile cosa si è mangiato Gilbert Grape, come lo traduci in italiano. Dico, ma non credo sia arrivato, ma guarda c'è un attore nuovo, giovane, che fantastico. Ha un nome italiano, non si ricordava il nome di Di Caprio. Un anno dopo Vittorio Cecchigori mi dà l'opportunità di programmare un cinema a Roma, che si chiama, appunto io chiamerò Cinema Roma, il cinema si chiamava Esperia, a Via La Trastevere. E' arrivato io e gli dico, lo ringrazio, facciamo un contrattino. Oh, ma andameli bene, i film mi facevano. Dico, dammi però, fammi dare anche un po' di qualità. Fai quello che vuoi. Andai nello scantinato per vedere un po', perché lui, sapevo che lui aveva comprato tanti film, ma che molti film non erano usciti. A un certo punto vedo questo titolo, quello che mi ha segnalato il mio amico inglese, What's It In Gilbert Grape. Allora me lo faccio proiettare e rimango incantato. Dico, ma questo è un grande film. Questo ha una poesia enorme, dico, poi, dico, sto ragazzino è fantastico. Anche Johnny Depp era molto bravo. La regia era molto bella, perché Alstrom aveva già fatto la mia vita a quattro zampe. Era un regista che ha sempre raccontato le famiglie in maniera disfunzionale, con crisi. È un bambino al centro, un ragazzino al centro. E in Gilbert Grape ci siamo. Quindi quando ho visto questo film mi sono molto emozionato. Mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. E ho voluto metterlo, anche in omaggio all'apertura di quel cinema che sono riuscito a seguire fino alla crisi dalla Cecchigori, perché poi dopo il cinema è stato venduto a me e quindi è finita anche la mia funzione di selezionatore dei titoli. Però lo ritengo un film magnifico, semplice, sembra un film indipendente, girato nell'Aiova. Poi in realtà fu girato in un paesino del Messico, però lo chiamavano Indora, il paese in cui si svolgeva la storia dove non c'è niente. Praterie senza niente. Cioè, la colonna sonora è il vento, il mulino dell'acqua che gira e i passi della madre che pesa 250 chili e come si muove dentro casa che è tutta di legno, senta pum, 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 pum. Quella è la colonna sonora del film. Bellissimo. E c'è questo rapporto di protezione del fratello maggiore verso il fratello che è autistico, perché Di Caprio fa un personaggio autistico. Ed è molto bello. È un film pieno d'affetto, pieno d'amore, pieno di... pieno di sensibilità, pieno di poesia. Bello anche il personaggio di Juliette Louis, si innamorerà poi di Johnny Depp, tutti quanti partiranno dopo la morte della mamma. È una famiglia con tanti problemi, però è un film sull'amore, sull'affetto, sulla protezione. Bello. Se dovessi mettere la tua firma sotto solo uno di questi film, quali sceglieresti? Ordetter non mi verrebbe a vedere nessuno. Viale del tramonto. No, non ho quello spessore, non mi ci rivedo nemmeno in dryer perché non arriva a essere così rigoroso, così austero. No, però, Bello del tramonto è un signor film, è un signor film, ma magari, ma magari.